Chi dopo una partita così spettacolare non riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno, soffre di autolesionismo o di mani di persecuzione nei confronti dell'Avellino. Per analizzare gli oltre 120 minuti del Ceravolo basta pensare a un dato. In campionato il Catanzaro aveva incassato solo sei gol, di cui due dai lupi al partenio Lombardi, ai quali vanno aggiunti i tre di ieri in Coppa Italia. Mica male, rimontare per ben tre volte alla capolista, persino nei supplementari, non è da tutti e farlo con carattere e personalità nemmeno. I segnali positivi arrivano dagli attaccanti Canutè, che quando mette la firma non lo fa mai in modo banale, e poi Murano, che dimostra di essere quello che è un bomber di spessore e di categoria, forse anche di Serie B, che ha bisogno solo di fiducia, ma un minimo di adrenalina la deve ritrovare dentro di sé, visto che la mimica dopo il gol è funerea, più che allegra. La presenza in campo, in contemporanea di Forte, Sbrage e Scognamiglio, buttati dentro da Massimo Rastelli per mancanza di alternative, rappresenta un altro motivo di riflessione. I due difensori in campionato non possono essere utilizzati, ma tornare in campo dopo oltre cinque mesi e farlo con un certo ordine, una certa tranquillità, è comunque importante. Dall'altro ci sono le ombre, i rigori sbagliati da Tito e Franco, non è da questi particolari che si giudica un giocatore, ma chiedersi dove hanno imparato quella rincorsa strana e un po' senza senso viene automatico, e poi c'è la nota dolente dei gol subiti. Sbagliare umano, come è successo con il Giuliano, perseverare come contro i calabresi, è diabolico. Gli errori sono di piazzamento e di concentrazione, sono del tutto evitabili, ma alla lunga possono costare davvero troppo caro. Da oggi però si pensa solo al Picerno, cercando di recuperare i tanti infortunati e le forze che dopo un match così infinito potrebbero risentirne, o forse no, perché l'Avellino, visto a Catanzaro, è rimasto lucido e in corsa davvero fino all'ultimo minuto. La classifica continua a far paura, è vero, non guardarla pensando ad una gara alla volta è l'unico obiettivo possibile. A gennaio ci sarà il mercato di riparazione e lì si apriranno nuovi e speriamo davvero più interessanti scenari.